Ciao ragazzi, sono Umberto Mauriello, oggi siamo con... Yeeeey! E oggi giocheremo su venerdì. 13... Aspetta, replay! Oggi giocheremo su venerdì 13... Dan Dan Dan! Voglio essere io, Jason? No, voglio essere io! Ah, no... Dunque, leggerò il proprio come devo andare! Guarda, se sono io, Jason... Guarda, a Jason piace... Proprio quelle persone proprio deliziose! Ciao Mimì! E non siamo nessuno! Però a Jason mi piacciono proprio gli odori di persone morte, no di vive! Di persone morte piacciono gli odori, raga! Raga, pollicioni in su se volete che sto Jason di merda muore una volta per tutte! No, sono vicino a tre case! Altro che trova! Comunque io ho lasciato la cosa della barca, però è del segno, ho lasciato il segno della cosa della barca! Sì, anche io! Io, guarda, sono dove c'è il simbolo della costa della barca! Bro, vicino a me c'è anche la barca, se c'è il gas... Bru, io vado alla barca, io vado alla barca, me la rischio! Ok, arriva, arriva, però fai in fretta! Sì, 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 dove c'è l'elica? Dai Bro, vieni, 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 vieni! Dove c'è il simbolo? Ok, ti vedo, vieni, 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 vieni! Vabbè, raga, io vado! Ok, ciao! Ok, fra un'ora devo andare alla cena di classe! Ciao! Ok, bro! Ciao YouTube! Ciao! Ok, abbiamo salutato per l'ultima volta Bull e Bullito! Ok, andiamo, andiamo! Ci dipendo io, ci dipendo io! Vai, 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 vai! Sì, lo metti in quella parte nel buco del culo! Bro, io non sprechererei stamina, proprio quella là che è sicura! Cioè, perché se poi c'è il gesto non hai più stamina, capito? Quindi io non sprecheremo! Sarebbe? Bro, ti immagini che già c'è il gas? Cioè, se c'è già il gas, siamo a posto! Intanto metti, intanto metti! Ok, bravo! Ok, bravo! Raga, inizio partita già stiamo per scappare! Inizio partita già stiamo per scappare! Eh, lo so! Comunque c'è Jason nei dintorni! Bro, andiamo in questa casa dove c'è sto tizio, così! Eh, lo so! Bro, andiamo in questa casa! È meglio che andiamo in questa casa dove... Bro, per me è meglio correre, guarda! Qua che c'è? Qua che c'è? Niente! Vediamo se c'è tipo il gas, tipo il carburante! Ma io non credo che c'è il carburante! Oh, ok, perfetto, perfetto! Dov'è il fusibile? Cavolo! Eh, sì, una! Ok, perfetto, però... Bro, stanno mettendo forse il gas alla barca! No, bro, perché io vedo... Bro, io vedo uno vicino alla barca! Dovrebbe mettere il gas se è vicino! Cioè, è proprio attaccato! Vediamo se sta mettendo il carburante! Bro, io vado a quello là che sta mettendo forse una cosa alla barca! Oh, cavolo! C'è Jason! Vai tu, vai tu! Perché non mi fa andare? Eh, io te l'ho detto! Vabbè, bro, ragerson... Bro, ragerson... Bro, ragerson penserà lì per forza! Infatti si è fermato! Ehm... Infatti... Infatti... Eh... Eh, non lo so, bro... Bro, premiamo... Non lo so... Bro, dobbiamo fare una cosa in fretta! Bro, adesso... No, bro, c'è la porta spaccata! Bro, c'è la porta spaccata! C'è la porta spaccata! E io ho chiuso tutte le porte! Oh, cavolo! Ok, bro! Al mio treno colpiamo insieme, ok? Uno, due, tre! Ok! Scappa, scappa! Io scoppo dalla finestra! No, stop! Ok, ho una cura per curarmi, tanto io... Scappiamo! No! Cavolo! Ma io vado da sto qua! Che cavolo me ne frega! Ma io vado da sto qua! Che cavolo me ne frega! Tanto a me, cavolo! Eh... Tanto son morto! Non ho più cure, son morto! Cioè... No! Perchè... Perchè... Perchè non gli hai dato Babbo, son morto male tanto io? No! Raga! sta morte la censuro raga sta morte la censuro per forza no bro io quella quella morte la devo censurare raga guarda la mia preda è ha fatto 8 kg su 5 raga 8 su 5 è anche la mia io voglio quello proprio tutto morto ma morto morto ma lo voglio morto proprio che va l'inferno un paio di volte marogna possiamo assaporare meglio il sangue se è così oh allora chi è che uccidi se è Jason anche a me ok ok allora ho confermato se è su Jason uccidere sette giacchi perfetto giupi bella 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 mi amici mi amici mi amici lo sai lo sai lo sai lo sai lo sai oh che cazzo vabbè mi sa che lui vuole attaporare un po' di dio di sangue ok raga anche io perfetto perfetto oh spray è a wiki toki è wiki toki vabbè si trova sempre asetta in che senso è andato via se moriamo ti voglio dire ok ho attivato la radio che almeno ho capito mi sa mi sa che stai inseguendo l'altro no oh fretta chiudi badraca bro mi sa bro guarda che ho guarda che ho guarda guarda che ho guarda che ho guarda che ho le mie misce le casse ah sai bro farò finta che non stare giocando faccio finta che non sto giocando bro ha paura no ho un sassi teletrasporto per venire da noi bro mi sono incastrato bro ti prego no sono incastrato di nuovo non ho un'arma oh dai bro scappiamo scappa grazie che mi hai chiuso la porta no 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 oh cazzo bro l'ho chiamato tommy no dai dai ti odio che mi hai chiuso la porta in faccia però ma tanto comunque ci morivi ma io ti ho salvato la vita ecco hai avuto solo culo ammettilo io ho la primatissima figura che ecco ma che fai adesso è difficile eh vabbè sei morta male decisamente male oh sto qua sta mettendo la benzina è vero mi sa che quell'altra collaborava con Jason è è è ecco ecco oh 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 my god what happened eh no di sicuro amici di Jason allora Faze di sicuro è amico di Jason però ma si può vedere quale ah se bro ma si può vedere che che si hanno chiamato Tommy Javis anche se si è morto eh aspetta bro non ammennare forse qualcuno di noi deve diventare Tommy ma di sicuro bro ma cosa significa ms bro quando fai quando premi la frecciata in su per vedere i giocatori e sta scritto il tuo nome a fianco tipo aperto vivo e a fianco a vivo sta 112 108 ms no era anche la macchina che che era di neoangelo neoangelo guarda ecco beh no collaborerà 100% con Jason non collaborerà 100% con Jason no no però la vittoria non se la merita però vabbè peggio bro peggio per lui perché poi tanto ma non mi dà gli xp perché ha investito uno bro ora io mi metto ora io mi metto delle benedizioni per un'altra ma non mi metto da fare gioco è un bel un'altra è un'altra è un'altra non mi metto è un'altra c'è alcune cose che non posso... se vai... vediamo... io sono un grande fan delle mandigiole allora... e... oh brut... ho fatto una... bro... ho trovato... ho trovato... c'è... c'è la... c'è... 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 praticamente gli spaccò la testa uno... c'è... 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 5 ed è un po' buono, fortuna 3, riparazioni 10, quindi è buonissima con le riparazioni, velocità 4, energia 3, furtività 9, quindi buono e forza 1. L'arma? Ah, io già ce l'ho, già ce l'ho. Mi sa che sei tu, Gerson, vediamo, no. Questo sono io, questo sono io. Non dico, Gerson, dico quel biondo, là, sono io soltanto i mutande. È vero? Non può essere vero. Anche io, aspetta, vedo la mappa. Ah, anche io sto vicino ai bagni. Fai il simbolo, fai il simbolo. Ah, ma sei là. Bruno, sei vicino? Eh, vabbè. Questa è sfortuna totale, Bruno, Gerson, non sa da che. Mi sa che questo qua sta mettendo qualcosa, Gerson, non lo so. Oh, Bruno, mi sa la batteria. Ci sembra soltanto benzina. Però, Bruno, ci sembra anche le chiavi. Questa è qua? Sì, però... Sei morto. Bru, arrivo con te con un fucile. Arrivo da te con un fucile. Vabbè, Bru, arrivo da te con un fucile. Ok, Bru, io sto arrivando. Io sto arrivando. Bru, ti ha fatto molto male. Bru, sta arrivando. Bru, cerca di arrivare ai bagni. Vai, cerca di arrivare ai bagni gialli. Bru, tranquillo. Bru, vicino ai bagni. Sono vicino a te. Ma non ti vuoi, cioè, ma, tipo, non ti ha preso il collo, oppure non... Ma ti lascia scappare, cioè, diciamo... Vabbè, Bru, ci sono... Bru, è fermo. Non sei in FK, Jess. Non sei in FK. Qua che c'è? Oh, Bru, ci servono solo le chiavi sta... Ma... Ah, aspetta. Bru, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, la macchina è aggiustata. Vieni qua, la macchina è aggiustata. Bru, vieni, vieni. andiamo 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 sperando che non collabora con Jason sperando tanto solo a te poi non ti dai di XP no ti prego fa che non fa me fa che non fa me ok perfetto dai 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 però mi sa che ci muore e infatti ci muore male vabbè bro io vado dentro alla casa bro entriamo dentro alla casa no 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 dai sperando che non mi acchiappa bro sei entrato no dai 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 si no prima di tutti no aspetta non ci credo dai odio la vita raga 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 dai dai raga però che cavolo la odio la vita non poteva non poteva ecco qua è dove hanno chiamato la maledetta il maledetto Tommy già è vero è vero è vero lo posso uccidere però sei di maione bro è vero è vero è vero è vero è vero no non devo morire cavolo non devo morire aspetta perché come fai a vedere ma mi stai vedendo ok no per me è meglio dove dove vado vicino a quello a questo qua avvicino a sto qua perché cioè può darsi che capito cioè che ha le chiavi e magari sì però ci servono le chiavi ci servono cavolo sì però può andare un po' più veloce dai io credo che ha le chiavi io credo che ha le chiavi io credo che ha le chiavi questo no 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 le chiavi strano che non c'è le chiavi però cavolo eh bro io mi dutto sta casa vicino allora bro allora io provo bro allora io provo a duttarmi sta casa però se mi sbaglio già questa l'ho tutta io mi sa vabbè me l'ha riduto magari non ho visto qualcosa mappa e dov'è ah mappa sì però ci servono le chiavi cavolo ma mi stai guardando? eh mi servono le chiavi mi servono le chiavi qua vediamo se ai bagni tipo c'è qualcosa tipo non so vediamo allora già che c'è il fusibile e il fusibile si trova spesso ai bagni cavolo la rabbia è attivata la rabbia è attivata ma sta qua non ha un'arma io vado da eh vabbè allora vinco vinco sono armato di fucile un cottellino vinco di sicuro anche se ha la rabbia attivata vinco di sicuro anche se ha la rabbia mmm mmmm mmmm è uscita è stato tanto ok perfetto è quella la campoblocco o è quella la vicino proprio alle 4 o 5 case è vicino ai bagni ok la vedo chi ho ok perfetto quanto manca Roma se oggetto non è veramente scasso cioè ho uscito 8 c'è Ania c'è 0 è scasso sto girosino io che pensavo che era forte quanti penso eh boh oh forse è questa qua sì sì dammi le chiavi dammi le chiavi a me che so guidare dammi le chiavi a me dammi le chiavi a me che so guidare cavolo ci sì io non ho fatto un cazzo bravo si mmm 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 E dai, sto sopravvissuto, sia come animatore, sia come Tommy Jarvis. Vabbè, è sempre un, metto, eh, qui questa, questa, no, qui, è questa, bro perché sai, perché quelli, quelli, nelle altre mappe usano il glicio per andare sui tetti, invece qua non si può fare, bro qua. Qua non si possono, qua non si può fare, qua. Alla fine anche Gerson era sul tetto. Bro, io ho visto, io ho visto che praticamente, che ho, cioè come si fa, cioè perché praticamente hanno piazzato la trappola, l'hanno richiusa, sono andati. Chi è? Eh vabbè, io poi ho visto che ho, ha chiuso la trappola, poi ha tenuto R1, è andato su una roccia e si è teletrasportato sul tetto. Vabbè, però, però, però è anche un po' bello, dai. Però fallo sempre un po' stancante. Sì, sì, allora, vicino a tre, vicino a, no, aspetta, vicino a tre, ah, ma tu, ma sta insieme a uno? Secondo. Ma. Perfetto. Aspetta, lascia il segno che forse, vedo, dove sei? Ok. Eh, io sono vicino a tre case, vicino a uno. Oh, chiavi per la macchina! No, da meno, però sento la musichetta, tipo che, diciamo, vicino. Eh, infatti sento le urla, le sento, si è vicino. Ah, ma sei dietro, ma sei dietro, ma sei dietro, ah, bro, andiamo in questa casa, vediamo se c'è qualcosa, bro. Qua, dove? E' la casa di Tommy, sei sicuro? Non è vero? Io che ci sono pure stato. Ok, bro, io vado in quest'altra casa, a vedere se, tipo, c'è qualche fusibile, un gas, qualcosa. Ok. Vediamo se qua c'è qualcosa. Bro, la batteria, però, già l'abbiamo messa. Ah, vabbè, eccola. Bro, potremmo usarla, bro, io mi prendo la batteria e la uso quella là più vicino, quella là vicino alla nostra, capito? No, bro, andiamo là, andiamo là, che tanto poi io ho anche le chiavi, andiamo là. Tranquillo, tranquillo. Ok, vedo la macchina, ti prego, fa che non è, che non è una macchina. Infatti era veramente un pericolo. Bro, non ho più stamina. No! Chi è che sta inseguendo a uno dei due, Jason? C'è un'arma? Eh, la prossima volta ti sto a sentire. Bro, mi sa che adesso non sei andato, però potremmo di nuovo riandare, perché siamo più vicini. Bro, aspetta. Mi sa che ora, però... Aspetta. Bro, ora ci stanno due tizi alla macchina, vorrei fosse se ne è andato. Bro, per me è il momento esatto per andare, per me è il momento esatto. Bro, io provo, me la rischio, bro, me la rischio. Eh, no, in verità c'è il Jason, ok, però non mi ha visto. Bro, non mi ha visto, non mi ha visto. Bro, c'è qualche arma per me, eh? Bro, io voglio un attimo in sta casa. Allora, se andiamo in sta casa, posso avere qualche arma per me. Dov'è? Sì, vedi qua? Ah, la patella, la patella. Bro, quelli là stanno scappando, quelli là. Oh, bro, stanno venendo verso questa strada. No, è solo due, è quella da due. No. Vabbè, bro, io vado qua. Oh, no, no, dai. Daga, dai. Daga, dai. No, no, dai. Eh, bro, andiamoci. Oh, sì, è vero? Bru, lo prendo io, lo voglio prendere io, dai, please. Dai, lo voglio prendere io. Dai, 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 bro, me lo dai, please. Almeno posso chiamare io la polizia. Ce l'hai, è un bug, però ce l'hai. E la puoi anche usare. Eh no, ce l'hai, ce l'hai, e la puoi anche usare. Sì, ok. Bro, chiamo io la polizia. Polizia, tu metti. Ok. Che era mia, e me ne fregata. Ma, ce l'ho, ma... Bru, ma, già ero curato. Bravo. Bravo. Bru, dai, te lo distrago. Bru, te lo distrago. Però non te lo posso distrarre a lungo. Bru, non te lo posso distrarre a lungo, ti avviso. No. Bru, non posso, non ho stamina, non posso correre. Ma, che cavolo stai facendo? Dai. Fai subito, bro. Bru, dai, vai subito, bro. Bru, dai, vai subito, bro. Non credo che c'è... Bru, guarda la mia faccia, quando è terrorizzata. Oh, ma, ancora ci sentiamo su... Bro, prova a lanciarci i cazzellini. Ok, l'ho colpito. Dove vai, lo so. Sto qua, Gerson. Eh, bro, io... Bro, bro, io vado qua, così lo attacco mentre entra. Aspetta. Bro, tu proteggimi, eh. No! La rabbia! ma che cazzo di cazzare bro dobbiamo entrare qua dentro da qualche parte bro qua dentro bro non mi ha visto non ci credo bro no 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 stanna ehi jason l'ho chiamato no che fa no bro ti voglio uccidere proprio così perché pensa che ha tipo hai tipo hai andato a cantarmi questa si jason cavolo non fai a vedere anche a me cioè non fai a sentire anche a me col cavolo che mi prendi ma è brutto sei non sei brutto perché sei così aia è che vuoi stavo facendo una cosa con una tizia e ho saputo che aiuto aiuto aspetta 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 ma sei andato ma non si butta adesso sto spaventando nan 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 aia ma che sei bello se tu hai tre tre amici sia però è solo questo non è una femmina sia è solo la femmina è un po' amico sì ma è bella è bella mi fai voglio sentire l'occhio è piccolo a 10 anni ok non ti lo vedo perché ti stiamo uccidendo sì la pola dov'è la pola dov'è la pula è dal rastro all'albero è dalla strada andiamo la pula sì c'è la pula c'è la pula Italia è napoletano sì no non lo c'è no l'hai incontrato qua? no oltre dove? una volta c'è Jason dove c'è la pula dobbiamo dobbiamo distrarlo sì allora che qualcuno si fa prendere pericolo da Jason ok sei ospite sei coraggioso ok andiamo chi è? lui o lei? lei lui mi sente? sì 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 Jason di merda vieni qua Jason di merda che fa la cacca di merda lo so perché la vedo ah che bella soffresa perché ti dobbiamo uccidere perché hai una testa di cazzo ti sei sbagliato? perché ti è sbagliato? vieni qua perché ti non soffresa è voleva ahia 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 ah sei morto aspetta 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 devo ancora dire una cosa e spero che video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un pollicione in su attivate la campanellina sì e ci vediamo in un fantastico video grazie